Il recover, grandissima prestazione la tua e della squadra, lui che vince ancora una volta negli scontri diretti dopo Modena, Perugia e Trento nell'andata, avete ricominciato anche il ritorno con questo refreno. Sì, qua giocare è sempre difficile, quindi bene così, noi ci aspettavamo magari una formazione un po' diversa, però diciamo che siamo stati bravi, a parte il terzo set che potevamo partire meglio, però il quarto abbiamo reagito come volevamo, dovevamo e abbiamo portato a casa tre punti d'oro. Il secondo set vinto in rimonta, in sofferenza? Sì, secondo set era chiaro che loro non potessero giocare come il primo, quindi ce l'aspettavamo, hanno spinto un po' di più con la battuta, hanno difeso, noi abbiamo fatto qualche errorino di troppo, ma niente, adesso guardiamo la parte positiva e non la negativa, cioè il set perso. Guardiamo ai tre punti che ci mantengono a un punto di distanza dalla Copunista Perugia. Sì, sì, noi siamo lì dietro, gli stiamo col fiato sul collo, il mercoledì già giochiamo in Champions, quindi adesso doccia veloce e un bel viaggio verso casa.